Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sulla FIPILI per lavori di manutenzione al viadotto del Turbone, possibili disagi in entrambe le direzioni tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Sulla statale 1 Aurelia, all'altezza del chilometro 283, corsia di marcia in direzione sud chiusa tra Rosignano e Cecina Nord. La viabilità cittadina a Firenze, sull'Ungarno Diaz, fino all'11 giugno per lavori al canale Chiesi, sarà chiuso il tratto tra Piazza Mentana e Piazza dei Giudici. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! 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 Grazie a tutti.